Saluti ai nostri telespettatori, nuova puntata di tema, ospite degli studi di Teleacras e un personaggio bisognevole di poche presentazioni. Per gli agrigentini e non solo, Paolo Macedonio. La scuola di teatro a Roma, il teatro, il cinema, la radio, la televisione e tanto altro. L'infanzia, l'adolescenza, l'agrigento, nei soborghi del Viare della Vittoria, alla Villa Lizzi, intesa anche Villa Cavetta, dove lei dal ragazzino ha militato a fianco di Angelo Ruoppolo in un gruppo paraterroristico intitolato GAS, gruppo armato sovversivo. Che ricorda di quell'esperienza? Paolo Macedonio. Stupendo, io rimango ancora tuo spettatore, Angelo. Allora, GAS, partiamo dai GAS e fai bene a partire dai GAS, dai gruppi armati sovversivi, tu lui era Piper Scalp e Totto Giglione e John Suprem, no? Eravate i miei mentori delinquenziali. Fortunatamente poi tu hai trovato una strada nel giornalismo, se no magari saresti stato un capo mafia forse, ma meno male. Come Tarantino, se non avesse fatto il regista sarebbe stato un serial killer, quindi meno male abbiamo trovato un grande professionista. Tu invece sei diventato un attore di talento. Adesso, subito al dunque, il 23 ottobre, al Teatro Eliseo a Palermo alle ore 21 sarai sul palco un Fulmine a Ciel Sereno. Paolo Macedonio che ha scritto, dirige e interpreta l'opera. Volendomi così tanto bene, ovviamente mi hai già messo in pensione, perché teatro, cinema, dirigo, interpreto, ormai c'ho l'empals. No, non sono solo, non sono solo in questo progetto Fulmine a Ciel Sereno. Fulmine a Ciel Sereno parla della mia vita. Io in realtà questo spettacolo l'ha scritto la mia vita, perché secondo me, io parto da un presupposto che la vita di ognuno di noi è un capolavoro in sé. Anche se tu fai, credi di fare la vita più piatta del mondo, in realtà la tua vita, quando arrivi alla fine, ti rendi conto che su questa tua vita, che magari non hai fatto nulla di eclatante, su questa tua vita puoi scrivere un film e sarà sicuramente un film molto interessante, per tutti. Questo è Fulmine a Ciel Sereno. Fulmine a Ciel Sereno, ecco, la storia della vita, qualche cosa in continuo e perenne movimento attraverso tanti flash che stigmatizzano dei personaggi, delle sequenze umane. Esatto. Questo mio spettacolo non è una... cioè è una... io lo vedo come un qualcosa di a parte. Io faccio l'attore, lavoro in teatro, per la macchina da presa, ho fatto televisione, la radio, le pubblicità. Fulmine a Ciel Sereno è come un... è il grande gioco che non si è mai interrotto. Questo è per me Fulmine a Ciel Sereno. Perché mentre quando lavori e diventa lavoro fare l'attore, ci sono delle regole, ci sono dei rapporti, c'è c'è chi comanda, chi... diventa qualcosa di freddo, comunque qualcosa di brutto, da un certo punto di vista. La vita invece è molto bella. E quando io sul palco scenico faccio Fulmine a Ciel Sereno mi rendo conto di quanto sia bella veramente la vita. Perché dico questo? Perché sono questi famosi pezzi che io ho vissuto, che per gioco ho sempre raccontato nelle pause di lavoro ai colleghi, nelle serate con gli amici, li ho messi insieme ed è diventato uno spettacolo teatrale. Io non riesco neanche a valutare perché si ride, perché ci si commuove e più lo faccio, più mi rendo conto che questo accade solo esclusivamente perché questa cosa che si chiama vita è un capolavoro in sé. Un po' come diceva Carmelo Bene. Ti ricordi Carmelo Bene che nelle sue apparenti follie provocatorie, lui è un nome di grande intelligenza, lui diceva una cosa molto importante, che non bisogna fare dei capolavori, cercare, bisogna essere dei capolavori. Questo poteva sembrare un atto di grandissima presunzione. Invece no, con questo lui diceva che ogni essere umano è un pezzo unico, quindi ogni essere umano è un capolavoro. Dipende solo da te cosa puoi fare o non fare della tua vita, ma questa è già una, mi viene un'immagine di Lucreziana memoria, la vitella e il giovenco perduto. Ti ricordi quando facevamo il liceo classico questi pezzi che per noi in quel momento erano noiosissimi? Ti vengono come flash quando hai 40 anni, quando ne hai 30, dici cavolo quanto era giusto quello che diceva Lucrezio. La vitella e il giovenco perduto. Era che è inutile, cioè la singolarità degli esseri, cioè ognuno è e non potrà mai essere uguale a un altro. Non c'è il più bravo, il più ricco, cioè c'è il più ricco, il meno ricco, ma non c'è che quello meno ricco è meno interessante di quello ricco, perché quello meno ricco probabilmente è molto più interessante del ricco perché ha curato la sua anima di più. Cioè è una cosa che io mi incarto a dirla, però nel pensiero ce l'ho chiara, però lo giuro. A dirla mi viene un po' più difficile. Quando magari si suol dire che il diploma di maturità classica serve a ben poco, fulmine a ciel sereno, una sorta allora, se mi consenti l'espressione, di best of Paolo Macedonio. Sì, bello, parli di questa cosa, il meglio di, il meglio della mia vita, che comincia... Ah per esempio un aspetto interessante è questa storia della comicità, perché mi si dice che faccio ridere. Io ancora mica l'ho capito bene perché faccio ridere, Angelo, io ve lo giuro, non voglio fare qua il finto... Cioè io non lo so perché faccio ridere. Ad esempio mi ha accompagnato mio padre in macchina qua a fare questa intervista con te e lui, io credo che lui quando faccia così e mi guarda, mi sono convinto che lui guarda ancora un individuo che ha otto anni, perché in macchina mi diceva, ma stai andando a fare l'intervista, ma pettinati, pettinati. Però questo pettinati, lui lo dice da quando ero piccolo e secondo me Angiolet parte tutto da sta pettinata, perché devo andare a scuola, quarta elementare, terza elementare, e cercavano con sti pettini di sistemarmi in sti capelli e venivo fuori una specie di piccolo totto cutugno e andavo in classe, secondo loro ero pettinato, ma all'apparenza ero giocoso, per cui tutte le volte che si diceva, cosa ne pensa Paolo? Allora Paolo si alzava e diceva la sua e tutti ridevano, nessuno, cioè a volte le cose le fai ma te le dà la genetica, per esempio, per prima cosa è il corpo che hai, cominci a convivere con quello che sei. Allora io dico una cosa seria, per me sto dicendo scusate ragazzi voglio dirvi che invece bisogna fare così, 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 risata subito, non arrivo neanche a finire, ma magari voglio dire una cosa seria. Allora questa è una cosa che ti dà la natura, ti dà Dio e ti rendi conto che questa cosa funziona, no? Allora tu cominci a raccontare cose, diventa prima media, seconda media, terza media e tutte le cose che racconti fanno ridere e ti accorgi che le persone, se tu prendi un pezzo di questo, se io faccio Angelo Ruopolo, fa ridere perché facendo l'imitazione di Angelo Ruopolo, ma non è solo un'imitazione vocale, è l'imitazione dell'anima se riesci a farla che fa ridere, capito? Allora comincia a lavorare su questo, comincia a vedere l'anima della gente, la cosa più bella che è proprio quando la mia giornata, tipo, diventa bella quando io scopro una persona nuova, quando conosco una persona nuova e mi faccio affascinare da questa persona, poi me la ritrovo che la rifaccio sul palcoscenico dieci anni dopo o che interpreto un personaggio e ci metto quell'anima perché è quella che serve, ma secondo me è questo il bello della comicità, se io mi metto a tavolino e cerco di sistemare una cosa per farla, una chiusa comica, quella è la volta che non ride nessuno, ma neanche io la strappo proprio, non sono io quello della battuta, io sono quello che ti dico un pezzo di vita, che sia mio, che sia tuo, una cosa che abbiamo vissuto. Che poi provochi il riso non è una conseguenza voluta. No, puoi piangere o ridere, infatti, ma noi abbiamo i grandi maestri nella nostra terra, non c'è bisogno di andare tanto lontano, abbiamo pirandello, cioè, dico una cosa che può sembrare macabra, ma nel momento di, ma quando, quante volte, passando tanti giorni metabolizzando il lutto, quante volte si ride pensando a quel giorno al funerale, dove c'è il massimo della tristezza, e io posso dirlo perché lo dico su di me, quindi non sono soltanto blasfemo, il giorno che è andata via mia nonna, che è stato proprio l'angelo della mia vita, da viva, figurati adesso che è morta, ma quel giorno lì al funerale, io e i miei cugini che l'abbiamo amata da morire, ti giuro, ogni due minuti… Magari pensando degli aneddoti, ovviamente. No, stanno lì, stanno lì, arrivano parenti che non vedi da 25 anni e ti abbracciano piangendo, ti stringono e capitano delle cose tremende, delle frasi, ti ricordo quando eravate poco, coccolini, ti abbracciano e tutti arrivano imbloccato lì, ti stringono, non ti fanno salutare la nonna che stava in camera mortuaria, c'era mia zia che stava lì con i suoi figli, vola stare un attimo da sola, e c'era questa cugina del paese che adesso basta, vieni fuori, basta Rossell, ma sono con mia madre morta, mi nasce almeno un giorno con mia madre morta un attimo. Quando magari ci sono anche dei matrimoni dove invece si piange, al contrario dei funerari, volevo raccontare questo aneddoto perché il dramma e la comicità sono incastrati, se tu fai solo la gag è una cosa che ti fa fare un sorrisino, così, se tu ci metti la verità, che può essere anche drammatica, Fulmina e Cessereno, io in Fulmina e Cessereno racconto di quando una volta nell'euforia del festeggiamento di un passaggio in finale della Coppa del Mondo, dell'Italia-Brasile del 1994, USA 94, l'Italia va in finale, io e i miei quattro amici ci mettiamo in macchina, marcia indietro a manetta del vialetto di casa mia, Italia, Italia, da dentro uno, c'ho pa, tuo nonno, gelo, brivido di gelo nella schiena, apro lo sportello, c'era nonno sdraiato per lungo, l'avevo beccato in pieno con la macchina, da lì, non te lo dico perché così poi vieni a vedere lo spettacolo, parte tutto un racconto di quello che accade con mio nonno che l'abbiamo poi ripreso, è arrivato mio padre, quel racconto lì fa parte di uno degli apici della risata dello spettacolo di Fulmina e Cessereno, si muore da ridere, si muore da ridere in cose drammatiche che io racconto come quando si racconta di un'esperienza di una droga dove ci si stava lasciando le penne, è una cosa drammatica la droga e tu ridi e rifletti, ridi e rifletti e questa è la vita e se un'opera riesce a portare questo in scena, tu hai centrato un obiettivo che ti giuro io non ce l'ho, non voglio fare quello il castigatore di costumi, non voglio parlare di politica, non voglio parlare, io voglio solo raccontare, se c'è un aneddoto politico lo racconto, poi è il pubblico che decide che cosa è successo quella volta quando te l'ho detto in scena. L'apice della risata anche magari nel corso dell'odierna puntata di tema perché forse i nostri telespettatori lo ascolteranno in onda ma il telefonino cellulare forse del padre di Paolo Macedonio suona perché lo ha dimenticato nello studio televisivo. Forse non è un suono di famiglia questo, forse è un altro cellulare. O è tuo o è di tuo padre. Ma mio padre che è un medico credo che prima o poi se lo farà montare un apparecchio tra la staffa e il martello proprio dentro l'orecchio e così non ha bisogno di avere apparecchi in mano, lo dimentico. Comunque sul mio padre ti dico un'ultima, sul fatto cellulare, una volta... Avevi ragione, non era... Non era di papà, però vedi è live, è sempre tutto live, su sta cosa del cellulare. Una volta è arrivato all'ambulatorio, dopo essere passato dal bar, ha fatto colazione ed è andato in ambulatorio e il suo medico, l'assistente del suo medico, gli ha detto Dottore, ma chi ci fa con il telecomando in mano? Cioè lui ha sbagliato, ha lasciato a casa il cellulare e si è portato in giro il telecomando. E la cosa che mi fa ridere da morire è che al bar c'era gente che lo vedeva con questo telecomando, probabilmente per non mortificarlo nessuno gli ha detto niente. Lui stava lì dicendo un caffè, un cornetto, un telecomando in mano. Lui stava lì dicendo un cornetto, un cornetto, un cornetto, un cornetto, un cornetto.